In un attimo. È iniziato il vento. E rapide, son giunte nuvole leggere in cielo. Sto ascoltando una musica armena, misteriosa, ricca. E penso al suo autore, Komitas, il più grande compositore d'Armenia. Mi distrae un poco la luce opaca entrata dalle finestre. Si è indebolito il sole. E in un attimo ho sentito triste la stessa musica che prima mi faceva sognare. Quale alchimia si innesta tra la musica ed il sole? Quale segreto esiste fra loro? In verità, non sono due i personaggi. Ci sono anch'io. Sensibile al bello e ai mutamenti. Ci sono anch'io che mischio al sole e ai suoni tutta l'anima mia. Cambiando me stessa anche soltanto per qualche nuvola. O per un po' di vento.